Abbiamo anche qui news del direttore Simone Ippoliti. Si è piascato casualmente una notizia di calcio, questo è un ragazzo di Capena che adesso sta nelle giovanili under 16 del Venezia che poi comunque è il club di Dacopina, poi la prima squadra allenata da Enzaghi. E una curiosità contro Lazio Torino, nel Toro c'è Kevin Bonifazi che è un ragazzo di Toffia, che è un paese lì nelle vicinanze mentre più conosciuto ormai un po' da tutti è Vicari della Spal, lui è di Fiano Romano. Quindi è la zona che copriamo noi con il nostro giornale. Sono due ragazzi che l'altro anno stavano alla Spal e adesso stanno facendo la Serie A. Più Vicari anche da Capitano, Bonifazi invece ancora deve esordire in campionato, l'ha già fatto in Coppa Italia.